Grazie a tutti. Bene, cominciamo ad avere criteri omogenei nella distribuzione dei vaccini. La Campania deve avere 250.000 vaccini in più rispetto alla sua popolazione sul totale nazionale. Noi abbiamo accettato di fare arrivare prima i vaccini nelle regioni dove c'erano più anziani, ma con l'accordo che poi si ripristinasse la proporzione rispetto alla popolazione. Ad oggi mancano alla Campania 250.000 dosi di vaccino. Vorrei dire con un linguaggio da omelia, diciamo, con quale coscienza si accetta di togliere alla Campania 250.000 dosi. Ma lei, Presidente, sarebbe in grado di utilizzarli tutti? Assolutamente sì. Siamo, credo, all'avanguardia per quanto riguarda le percentuali di utilizzazione dei vaccini. Devo dire quindi che attendiamo che ci sia questa operazione di equità e di giustizia, perché nei mesi passati è stato fatto un furto nei confronti della Campania. C'è da dire in generale, Presidente, che i vaccini mancano un po' a tutti, cioè ce ne sono pochini, tant'è che lei ha detto che l'Italia dorme in piedi, mentre la Germania compra Sputnik a tutto spiano, così come forse ha in mente di fare anche lei. Il dato di fondo è esattamente questo, la mancanza di vaccini. E questo drammatizza tutti i problemi. Un mese fa ho fatto un contratto con l'azienda produttrice di Sputnik. Ho dovuto ascoltare i commenti di una stupidità unica. Non ho il tempo per rispondere, perché qui dobbiamo lavorare in Campania. Bene, apprendo che poi in questi giorni la regione più ricca della Germania, la Baviera, sta facendo un contratto esattamente come ha fatto la Campania un mese fa. E che addirittura la Germania sta lavorando per procurarsi 20 milioni di dosi di vaccino. Sputnik, mi domando che cosa sta facendo l'Italia? Perché dorme in piedi? Perché il vaccino aggiuntivo rispetto ai quattro vaccini contrattualizzati dall'Europa, e cioè Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson, il vaccino aggiuntivo poteva servire a darlo alle categorie economiche e quindi a dare respiro all'economia del nostro paese. Ma la Germania si muove, il governo italiano dorme in piedi, come si dice dalle nostre parti. Lei se lo farebbe lo Sputnik? Assolutamente sì, senza nessun problema. Ho visto che a San Marino stanno utilizzando a decine di migliaia questo vaccino, non c'è nessun problema, ma nonostante tutto noi continuiamo a dormire. Presidente, un'ultima domanda. Lei ha una sola siringa, un settantenne appena pensionato, non superattivo, e un ristoratore di Capri. Chi vaccina? Settantenne ovviamente. Capiamoci bene anche su questo problema delle fasce. La Campania è totalmente d'accordo sulla priorità da dare alle fasce di età, gli ultraottantenni e i pazienti fragili. In Campania, entro questa settimana, vacciniamo il 100% degli ultraottantenni. Nelle prossime due settimane anche i non deambulanti e le categorie fragili. E questo nonostante che la Campania abbia 15.000 dipendenti, meno rispetto a regioni che hanno un milione e mezzo di abitanti della regione. La Campania pone un altro problema. Quindi totalmente d'accordo, ultraottantenni, settantenni, eccetera. Uno di coerenza del governo, un altro di rapporto con le categorie economiche. Coerenza del governo. Ma si può dire alle famiglie italiane, noi apriamo le scuole in sicurezza e poi non muovere un dito per il trasporto pubblico locale. Gli autisti dei Pullman non hanno 80 anni, ne hanno 30, 40, 50. Così per le categorie economiche. C'è almeno una categoria economica, quella del comparto turistico, per la quale i tempi sono decisivi. Se entro maggio non prendiamo misure conseguenti, noi avremo una stagione turistica pregiudicata e regaleremo alla Grecia, alla Spagna, alla Croazia milioni di turisti. Ci vuole tanto per capirlo. Così per i ristoratori. Noi possiamo aprire tranquillamente i ristoranti alle 11 di sera fino alle 11 e 30. Il problema del contagio è rappresentato dalla movida totalmente fuori controllo. Ma il problema della movida fuori controllo è un problema dello Stato italiano, delle forze dell'ordine, non dei ristoratori che in maniera controllata, rigorosa, contingentata possono lavorare. Allora il problema che pone la Campania è questo. Noi siamo entrati in una seconda fase, diversa da quella di un anno fa. Un anno fa il problema era chiudere tutto. La seconda fase si apre perché abbiamo due novità. I vaccini, che non avevamo un anno fa, e un'economia del Paese che è stremata. E dunque noi riteniamo che sia ragionevole muoversi su due piani. Continuare a vaccinare per fasce di età, ma contemporaneamente dare una mano in condizioni di sicurezza alle categorie economiche. Questa a me pare una linea di buonsenso, ma siccome siamo in Italia è difficile da attuare perché come ne sa, siamo un Paese che è ricco di eminenti statisti, ma molto povero di buoni amministratori. Le isole Covid-free le fa o meglio non polemizzano? Si faranno, senza nessuna polemica. Nelle isole stiamo vaccinando gli ultraottantenni, i pazienti fragili, i settantenni, i sessantenni. Quando poi abbiamo finito queste categorie, che cosa facciamo? E quando magari abbiamo dosi che rimangono inutilizzate di AstraZeneca perché abbiamo alcuni rifiuti, che cosa facciamo? Secondo me è del tutto ragionevole completare la vaccinazione, anche perché parliamo di una popolazione estremamente limitata, che però ha un grande vantaggio. Capri e Ischia sono un brand mondiale e quindi possono darci una ricaduta in termini di rilancio di immagine turistica enormemente elevato. Quando comincia con Capri e Ischia? Quando avremo finito gli ultra novantenni, i centenari, gli ottantenni, i pazienti a rischio, eccetera, eccetera. I centri di vaccinazione hanno una loro autonomia. Quando hanno vaccini che residuano, credo che sia ragionevole utilizzarli per vaccinare, immunizzare quante più persone possibili. Anche perché i risultati di quelle vaccinazioni poi aumentano il dato generale delle vaccinazioni della nostra regione. Dunque credo che possiamo muoverci con grande tranquillità, con spirito unitario ma con onestà intellettuale. Chiedo che il commissariato renda pubblici i dati sulle percentuali di vaccini distribuiti regione per regione, in base alla popolazione delle regioni sul totale nazionale. E chiedo anche che sia reso pubblico il dato che riguarda i singoli vaccini distribuiti. La regione Campania è il 9,6% della popolazione italiana. Chiediamo di avere il 9,6% dei vaccini e il 9,6% per ogni tipo di vaccino. Ce vi danno tutti gli AstraZeneca a voi, questo stai dicendo? Ce ne danno un po' di più. E la gente non li vuole. Come? E qualcuno non li vuole. C'è stato qualche rifiuto, a mio parere sbagliato perché si può andare avanti tranquillamente, ma non è che possiamo obbligare con le forche i cittadini. A me interessa che ci sia in Italia lo stesso trattamento per tutti i cittadini di questo paese. Credo che fosse questo l'impegno del commissario. L'importante è mantenerlo, e mantenerlo oggi, non quando saremo andati a migliore vita. Grazie. 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 Grazie.